Hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono ROG01 e oggi giochiamo su Minecraft, un ritorno grandioso però questa volta non giocheremo in multiplayer ma incomincieremo una bella vanilla questo è il mio mondo personale che non gioco da 15 minuti, infatti l'ultima versione che ho caricato in quel mondo è 1.15 però in questo episodio giocheremo nell'ultimo snapshot che era 20v49a, cioè l'ultimo che è uscito in questo periodo che è lo snapshot dell'1.17 dovrebbe essere, vabbè questa chiamiamo vanilla youtube, survival, difficoltà normale, cheat off, datapack non so cosa, che cosa hanno messo qui, game rule, ah si le game rule ok, niente, ok, aspetta voglio vedere qui, si, vabbè le generazioni delle strutture ovviamente si, buono successo, no, non mi sa tanto a che ci serve, lo facciamo in due secondi vabbè il seed non lo mettiamo, facciamo creare il mondo di Minecraft alla Mojang spero che non sia troppo buggato perché come ho detto prima stiamo giocando agli snapshot e come ben sappiamo gli snapshot su Minecraft non credo siano la cosa meglio ottimizzata del mondo nel mondo che siamo spawnati, oh, già siamo spawnati vicino a un villaggio, che fortuna anche perché questa è la prima volta che vedo i nuovi villaggi perché io, ok che avevo salvataggio dell'1.15 nel mio mondo personale, ma io non gioco da Minecraft seriamente forse, aspetta, era 1.11, prima che facessero l'update dell'acqua, degli oceani ah è vero che ci sono i gattini, quindi so poco e niente delle ultime cose, quindi esploreremo insieme questa nuova modalità, nuova versione, ah qui ci sono le nuove, queste le so, queste le conosco queste, questa cosa servivano un botto se non mi sbaglio perché servono a fare l'upgrade dal diamante alla nederite, che è un nuovo materiale che ci trova nel neder, che è molto difficile da craftare perché la nederite si crafta, non si trova, si trova la scrap ma alcune cose le so, non tutte ovviamente perché, ehi chi gioca a Minecraft, però ogni tanto escono i video tutorial, comunque facciamo le prime cose, le basi, facciamoci una bella crafting table, bellissimo piccone, aspetta che mi devo fare i primi sticki, eh se vedete che sono lente perché io non gioco a, si stavo per dire a fortale perché sono stupido, a Minecraft da un botto di tempo, quindi ogni tanto inizierò a shiftare per correre e in questo gioco è al contrario perché si corre con control, cominciamo a prendere i primi blocchi, so che ha tanta gente da fastidio, che la gente, primo colpo di laghi che di minecraft che lagga, wow, però per fortuna questo caso sta andando fluido perché quando io gioco, l'ultima volta che io giocavo, ecco perché ho abbandonato il gioco di minecraft, è perché laggava tantissimo col portale, oramai il mio portale non ce la faceva più, prendiamo questi blocchi di pietra, ci facciamo i primi strumenti in pietra e io questa serie lo voglio continuare solo se a fine anno raggiungeremo i 15 iscritti, si 15, i 25 iscritti, se non li raggiungiamo non credo che continuerà la vanilla, forse me la giocherò per conto mio ovviamente perché ho un botto di idee che in questi giorni mi stanno frullando in mente, anche perché ho molta voglia di giocare a minecraft, che io non gioco, è la ventesima volta che lo ripeto, a minecraft, dal 15-18, quindi voglio sapere, ah, questa è la, si, generazione di mine che ha fatto a bere, oh no, qui dovrebbe essere la cesta, c-c-c-pog, gioco, armature di ferro primo episodio, questa serviva, ah ho tolto il lavoro, mi dispiace ma io devo saccheggiare come un bravo giocatore di minecraft che saccheggia, vedo un villaggio e lo deve saccheggiare tutto, questo è cibo a gratis, ovviamente me lo prendo, se non mi sbaglio da qualche parte, infatti c'è il letto, spero che vi sia piaciuto questo ritorno su minecraft, anche perché, no, l'ho portato da un botto di tempo, e ho portato soltanto il multiplayer che dopo un po' stucca, lo ammetto, perché, ok, fai una partita, fai due o tre partite, però dopo, quando ripeti sempre lo stesso minigio che fatti, all'ultimo periodo volevo, stavo un pochino cambiando di minigame, non era sempre le bad wars, ho cominciato a mettere nuovi minigame come name tag, poi fai, quattro grano, un botto, quindi, mangeremo per tantissimo tempo, posso dire che di cibo sto benissimo per adesso, qui c'è, no, penso, non dovrebbe stare la campana, ah, ecco, la prendo col piccolo di pietra, si, fantastico, sì, io saccheggio un botto di cose, voglio trovare anche, ecco, la libreria, così, e la, eh, sì, e pelle, meno, poi anche leggio, che servono un botto, perché potrei fare un botto di cose segrete come ho fatto nella mia vanilla, ah, qua c'è la, una bella pianura, eh, mi sto accampando vicino a un villaggio, perché se vorrei fare una farm di ferro in futuro, portare migliaia di blocchi, due villager o più di, ah, eccolo, mi prendo prima questa bellissima campana che è durissima, e poi, eccolo il campo, ho visto delle, grano, grano, queste patate, sì, carote, dai che mancano tanto le barbabietole, no, abbiamo le carote, le patate, il pane, un botto di pane, e nient'altro, ci creiamo la prima nostra casa che è legno e pietra, non, non facciamo, già stanno i primi zombie, affrontiamo i primi zombie con il nuovo me, con il nuovo, sistema di combattimento, il mostrante, il primo zombie, però, non ci sono, non ci sono, i famosissimi creeper che non vedo da un botto di tempo, creeper, dai che vi voglio riabbracciare, vi voglio ammazzare tutti, ci sono anche le mucchine, però, io comincierei a fare una bella casa, un bel buco, dove dormire, dove mettere le prime ceste, come la potrei fare? Innanzitutto mettiamo qua, io vorrei farmare un pochino di pietra, non dove mettere la casa, la facciamo un pochino più là, il nostro punto di scavaggio, scavoso, dai, prendiamo una bellissima pala, scaviamo, dopo aver scavato un bel po', non ho trovato niente perché non ho scavato così profondamente, qui c'è uno dei primi zombie, prossimo episodio, spero di, per fortuna ho trovato quell'armatura prima, sento che forse anche ho il caschetto, adesso no? Ah, i piedini, un'armatura in più, è bello, i primi episodi già con armatura, con villaggio vicino, abbiamo farmato un bel po', io ho una pala e scavo la terra a mano perché sono deficiente, cominciamo a fare una bellissima casa, un bellissimo buco, dove vivere per i primi episodi, non so dove fare la porta però, è vero dilemma, dove fare la porta, perché io di solito ho sempre la porta in tutti i lati, ora mai mettiamo, aspetta che l'ho fatta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no l'ho fatta pari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma no l'ho fatta pari, la prima regola di minecraft, mai fare le costruzioni pari, ma mia, per fortuna non ho disdetto, proprio la primissima, eh, io ci ho perso, ho finito la pietra, mmm, aspetta che, dobbiamo, già c'è uno scheletro che ci sta sparando, dov'è? ah, eccolo, scheletro, io, aspetta, alla fortuna, ma siete diventati intelligentissimi, no, 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 per i episodi cominciavo bene, nice, già prima morte, volevo dormire, volevo costruire la mia prima cassetta, però costruire, non è stata una bella idea costruire di notte? ecco, lì in fondo ci sono, c'è, dei blocchi di cobroso, quindi, eccola la mia roba, prendiamo tutto, prendiamo tutto, prendiamo tutto, perché io mi metto le cose di, di pietra, corria, eh, sì, di pietra, di leather, voglio schivare tutti i colpi di questo picciniaccolo, picciniaccolo, non dare fastidio, va, de, re, tro, dai, che ti sto picchiando con bellissimo piccone, non mi colpire, dai, ma porca, eh, pure il picciniaccolo con, no, picciniaccolo con il piccone, neanche con l'ascia, con la spada, comunque cominciamo anche a mettere, a piazzare delle le prime cose, è dormire, possiamo, possiamo dormire, sì, cosa, ma ci è spawnato un creeper davanti, ma non ci credo, comunque non ci credo che, mamma mia, che fortuna, io dormo e mi esplode il creeper, tu dici, arrivano zombie, no, il creeper mi espone in faccia, eh, adesso dobbiamo andare alla ricerca della mia roba che dovrebbe stare qui in fondo, no, è tutto il mio inventario, eh, ci mettiamo qui, i scarpini, ci mettiamo di nuovo le robe al posto, 4, ok, i panini, mangiamo, perché prima stavo, prima da vero gamers di minecraft, mica io mangio, io resto a bocca asciutta per tutto il tempo, e poi incontro i zombie, e non posso correre, perché sono un vero gamer, sì, comunque io che piazzo, no, non sono più abituato, ma si vede tantissimo che io non sono più abituato a giocare a minecraft, eh, qui facciamo così, ok, spero che adesso sia, non sia pari, che sia dispari, comunque crede che mettere la, no, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, facciamo la porta a 2, perché mi piace molto a 2, eh, crafting table l'ho messa lì in fondo, non voglio cominciare a craftare 20.000 crafting table, eh, ok, eh, dove mettiamo, mettiamo all'angolino qua, o le cose c'era a fare priva, ah, è vero che te ne dava 3, in realtà ne ha date 6 per te, però, se lo bisognava quando ho cominciato a giocare io, ne dava 1 e basta, ed è, e non erano neanche staccabili, erano, no, per, no, non è la craftitevole della tinker, che si può utilizzare come, eh, ah, il letto, il letto, eh, buongiorno, tu tradi qualcosa di interessante, ah, un slimeball, però io non ho smeraldi, potresti passare, questo lo teniamo in casa, oramai, mi sono affezionato, eh, non vorrei costruire già con la terra, infatti, vado di nuovo a scavare, però ve la taglio, come ho fatto prima, ho trovato questo nuovo materiale che io non ho visto, credo che si chiama dei snapshot, che si chiama tuff, a cosa serve questo coso? chi lo sa, aspetta, ah, aspetta, forse non era quel materiale per i cristalli, che io non posso prendere col piccone di piedi, ma, ma questo coso non dovesse il super mega raro nelle caverne, io lo trovo, ecco perché quando dico che il gioco è malottimizzato e che la creazione del mondo fa letteralmente schifo, però è un gioco bello, dai, minecraft ho nerdato per tutta la mia vita, tutta la mia adolescenza, non so quante ore ho su minecraft, però ne ho un botto, io continuo qui a scavare perché voglio fare una bella casetta green coccolosa per il primo episodio, e poi ci possiamo lasciare, ehi, ho già trovato i primi di gotti di ferro 2, fantastico, chiudiamo, e io continuo a scavare, e mi sono fatto anche le torce con la carbonella, easy, strategie survival basic, e abbiamo finito già il primo piccone, carbone, ho trovato una caverna, e ho trovato anche del ferro, buono, e il nuovo materiale che dovrebbe essere il copper che non so se io lo posso scavare col piccone di pietra, illuminiamo per bene, c'è anche un bel po' d'oro buono, questo è sicuro che non lo posso prendere, però voglio vedere se posso prendere col piccone di pietra, sì che lo posso prendere, anche se, se non mi sbaglio, ancora non ha una utilità grande, solo per estetica si può utilizzare, e ne sta un po', questa cosa era più raro, è bello che c'è la cosa che andando nel tempo, via col tempo, si arrugginisce, diventa tutto blu, qui ancora c'è un bel po' d'oro, c'è del ferro, credo che è già il primo episodio, credo che ci facciamo già l'armatura fuori in ferro, quante ferro abbiamo? sette, bugia, sto scherzando, ah in questi casi rimpiango la mia redstone fornace, che, un altro zombie, zombie, vada retro, no no no, tu dove sei, ah, eccolo, da dove è spawnato, dai che c'era un botto di ferro, qui me l'ha fatto spawnare tutto, io continuo a scavare un pochino perché, beh, sapete chi gioca a Minecraft quando vede una caverna, la deve spawnare tutta, però, io sono venuto qui, in basso, giù nelle caverne di Minecraft, solo per con un pochino di cobblestone, quindi, continuiamo a scavare, e qui c'era una super mega trappola, col de ferro, eh, questa è la desidera, si, quindi posso scavare, prima regola di Minecraft, come ho detto prima, mai scavarsi sotto i piedi, infatti noi non stiamo scavando sotto i piedi, e allora ho trovato del carbone, ho trovato del ferro, manca soltanto la gilagina sulla torta, per il primo episodio, che, altezza, siamo 16, quindi fra poco siamo all'altezza diamante, se troviamo diamante al primo episodio, io, sono il bambino più felice del mondo, eh, non credo di trovarlo subito, eh, dove stiamo, ah, questa, ah no, questa dovrebbe essere la altezza giusta, però abbiamo quasi una stacca e mezzo di cobblestone, spero che basti, anche perché un po' l'ho utilizzata già, c'è dalla lava da qualche parte, quindi c'era una vecchia leggenda metropolitana che diceva vicino alla lava ci sono i diamanti, ma questo si diceva quando ho iniziato a giocare io, quindi nella 1.7.10 è la mia versione ufficiale, in realtà è nello snapshot dell'1.7.10, neanche nell'1.7.10, quindi, o ne, nello snapshot dell'1.8, boh, chi si ricorda, però tanto tempo fa, per esempio, eh, nice, per esempio, già abbiamo trovato il primo diamante, le leggende narrano bene, però non lo posso piccolare perché ho piccoli piedi, e questo me lo ricordo, non faccio questi fail, dai che questa volta dormiamo senza esplodere, sento uno scheletro, no, e no, e no, siete delle brutte persone allora, e che due bolle sempre, dai prendi fuoco, ma io mi proteggo da, eh, ah, no, sei so, devi morire, e ce la siamo presa a vizio adesso che voi, ogni volta che cerco di dormire dovete esplodere, e non va bene questa cosa, comunque qui io vorrei lasciare un bellissimo spazio di, un bel po' di blocchi, eh, sì, potrebbe andare anche così, perché vorrei fare un, delle belle vetrate, qui mettiamo il buco, ok, qui l'altro buco, eh, potrebbe andare anche bene così, abbiamo, abbiamo utilizzato anche, un bel po' di pietra, c'è rimasta un bel po' di pietra che potrebbe servirci in futuro, facciamo il primo tetto della prima casa che spero che successivamente farò un upgrade grandissimo, però il creeper sarà sorpreso a male, non posso vivere in questa zona, ogni volta che cerco di dormire qui mi fanno esplodere, mettiamo le torce, eh, dobbiamo, dov'è il legno, dov'è il legno, perché io sono una persona pigra, eh, no, però queste no, queste no, queste sono brutte, eh, metterò le pressure plate qui, eh, voglio mettere tutti i bordi, i bordi, no, qui, perché io voglio subito quei diamanti, voglio scoprire quanti diamanti ci sono, spero, spero, in tre, però, spero anche che siano cinque, così ci facciamo piccone, spada, è già il primo episodio, spada di diamante, altro che, che già col ferro, no, no, questo episodio ci facciamo già col diamante addosso, ora che abbiamo il piccolo di ferro, andiamo subito lì in basso, ma, 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 tu, se mi fai esplodere i miei diamanti, sei un pezzo di fango, qui c'è la mia toscetta, ebbè, è vero che non c'è la luce dinamica in questo gioco, solo con l'Optifine, io sento della lava, quindi dobbiamo essere cauti a scavare sotto i nostri piedini, ci sono altri diamanti, qui, ci sono più di tre diamanti, vedete, vedete che le leggende non mentivano, quattro diamanti stanno? Uno, due, aspetta che si chiamiamo qua, tre, quattro, cinque, cinque diamanti al primo episodio, piccone e spada in primo episodio, fantastico, che culo, posso dire che culo, sì, proprio i diamanti che volevo, sempre scriptato, non sono quei youtubers che dicono, ho minato un pochino, vedete quanto ho formato, ho tutte le ceste di diamante, nederite, la mamma loro anche, no, questo è tutto scavaggio, vedete che ho scavato veramente le torce, ho fatto con la carbonella, carino e coccoloso, e solo fortuna, ma mia, proprio, sicuramente è il titolo che sceglierò, iniziamo col bot, abbiamo trovato il villaggio, c'è una ipotetica farm di ferro che potrei fare su, perché le farm di ferro in queste gen, in queste versioni di minecraft, sono easy da fare, poi c'è anche quella farm da fare, che se non mi so, è facile, solo col pistone, una cosa del genere, ho visto poche niente, beh, io, chiude la porta, potrei concludere questo video, facendo così, prendendo i miei piccoli diamanti, facendo un piccolo di diamante, e una spada di diamante, la mettiamo qui, queste, questi, le mettiamo in saccoccia, e ci facciamo anche, l'armatura, full ferro, al primo episodio, io dico soltanto questo, non credo che ci sia uno youtuber in Italia, che, primo episodio, spada piccola di diamante, e full ferro, basta, se questo video vi sia piaciuto, mettete like, vi ricordo, se, a fine di questo anno, quindi, fine del 2020, raggiungiamo i 25 iscritti, questa serie, la proseguirò, se non arriviamo, vi, ho capito che, non vi piace Minecraft, eh, io, vi dirò questo, se vi sia piaciuto, mettete like, condividetelo, accedete al campanellino, per non perdere altri video, bella, ciao a tutti,